Ci troviamo presso il centro vaccinale del Teatro Tenda, oggi è un lunedì, quindi non c'è resta, non c'è confusione, ma insomma tranne i momenti degli open day devo dire che tutto più o meno si è sempre svolto come si doveva. Ecco, il prossimo appuntamento per chi vorrà vaccinarsi senza aver prenotato, quando è? Il prossimo appuntamento è domenica prossima, il 20 di giugno, sia qui che al Centro Affari, sia al Teatro Tenda che al Centro Affari, nella fascia serale, quindi dalle 20 alle 23. Sarà riservato agli over 50, quindi a coloro che hanno più di 50 anni, il vaccino sarà Pfizer e ovviamente se non si presenteranno per il nostro numero di dosi che abbiamo a disposizione, gli over 50, scenderemo con le fasce di età più giovani. Quindi si possono presentare e possono essere vaccinati anche coloro che hanno già una prenotazione, magari in un tempo più avanti, diciamo anche a luglio, agosto, molti giovani hanno prenotato anche per quel periodo lì. Si possono presentare e in quel caso è annullata la loro prenotazione e verrà fatta la vaccinazione se rientrano nel numero di dosi che abbiamo a disposizione. Ecco, per chi ha già una prenotazione deve prima cancellare quella e poi presentarsi o viene fatto tutto direttamente in quell'open day? No, viene fatto tutto direttamente nell'open day, nel momento in cui accede alla vaccinazione viene automaticamente cancellata la sua prenotazione per la prima dose che avrà più avanti e viene già registrata la seconda dose.